probabilmente ho vissuto la mia nascita come dannosa no e quindi ho conservato dentro di me probabilmente la paura di essere a mia volta dannosa cioè ho subito un danno perché ho percepito la mia nascita come un danno per mia madre come una cosa non desiderata non voluta e quindi ho avendo conservato questa memoria ho pensato anche ho avuto il timore di riprodurla e riproporla quindi non ho avuto quindi delle pressioni dirette consapevoli è stato un vissuto no in questo senso e che però per me è abbastanza archiviato perché ci ho fatto anche tanto lavoro anche attraverso l'arte